Grazie Presidente, io ho pensato molto prima di fare questo intervento perché volevo riportare un po' sul piano pratico la cosa e lo dico perché è difficile dirlo, ma io questa cosa l'ho vissuta di persona, quando ero una ragazza. Scusate, quindi so cosa vuol dire la violenza, lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino e ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti, non in casa ovviamente, fuori casa. L'ho vissuta purtroppo negli anni con tante amiche e con tante persone che hanno subito la violenza e quello che posso dire personalmente è che non c'è una rete di protezione, perché la rete di protezione che dovrebbe essere quella che ti sta vicino molto spesso non ti ascolta o non ci puoi parlare perché ti senti in colpa, perché ti vedi oggetto di una cosa che non è tua, sei impura. Questa è la realtà delle cose e quindi immagino che anche Giulia quando ha parlato con i suoi, con suo padre, con la sua famiglia, con i suoi amici abbia provato a chiedere aiuto, ma molto spesso si banalizzano le cose, si dice ma sai i ragazzi sono esagerati, sarà innamorato, no? Quante volte ci si sente dire sarà innamorato e quindi fa queste cose perché pensa che così ti conquista, ti tiene più stretto, ti tiene più vicino. Non è così? Non è così? La realtà è che queste persone sono di un egoismo estremo che ritengono che tu sia a loro disposizione, che tu possa essere un loro oggetto e questo non dipende dalla famiglia perché vi posso assicurare che può capitare da chiunque e a chiunque. Molto spesso sono persone che hanno dei genitori meravigliosi ai quali non hai neanche coraggio di dire quello che hanno fatto i figli perché sai che gli rovinerai la vita alle persone e non ai figli ovviamente. Oppure può capitare che delle persone che vengono da famiglie terribili siano quelle che invece ti accolgono, sono quelle che ti ascoltano e ti ranno supporto. Per cui tanti di quei discorsi che abbiamo sentito oggi, almeno a mio avviso, sono belli, per carità, coreografici, ma consigliere Andreoli mi consente di dirlo? Noi non andiamo in cerca del Principe Azzurro, assolutamente. Credo che qua le nostre mie colleghe lo possano dire. Non lo vogliamo il Principe Azzurro perché non esiste. Esiste l'uomo vero? Esiste l'uomo che la mattina si alza per prepararti il caffè perché magari quel giorno stai male? Esiste il collega che quel giorno rinuncia a venire qui perché ha la moglie e ha bisogno che qualcuno sia con i figli? Esiste l'uomo che tutti i giorni fa qualche cosa per la propria moglie, per la propria donna? Esiste il padre che supporta i figli e le figlie anche nel momento del bisogno? Il Principe Azzurro non c'è. La favola di Cenerentola per fortuna l'abbiamo superata da un bel po'. Quindi io ringrazio la collega Camani perché sono certa che un osservatorio, come tutti quante le cose che abbiamo saputo mettere a terra, credo tutti noi come amministratori, ognuno nel proprio piccolo, per cercare di ascoltare, come diceva prima la collega Bigon, chiunque veniva a bussare nella porta nei nostri municipi, anche la persona appena aspettata, quella che magari entrava cercando di non farsi vedere. Ecco, tutto questo, tutto questo messo in rete può essere una risoluzione, può essere un qualche cosa che poi alla fine porterà i nostri figli e le nostre figlie a vivere in un mondo migliore, in un illudo che cambierà tutto questo. Non possiamo pensare che un osservatorio risolva, ma almeno riusciamo a capire a che punto siamo, che strada stiamo percorrendo, stiamo migliorando, stiamo peggiorando, in che cosa possiamo intervenire. Apriamo gli occhi su un fenomeno che c'è e nessuno spesso ha coraggio di tirar fuori come un cilindro dal cappello. Si pensa sempre, si parla sempre di persone disagiate, di persone con problemi psichici, di persone che vengono da famiglie. Non è così. Succede a tutti, in tutte le famiglie, in tutte le circostanze, in tutte le latitudini e in tutto il mondo, purtroppo. Quando succede a casa nostra facciamo più fatica ad accettarlo. Grazie.